Oggi, giovedì grasso, il carnevale bussa alle porte dei bambini che per questa grande festa si divertono a interpretare i loro personaggi preferiti come i Minions, i poliziotti, i super pigiamini e le principesse Disney e non solo. E così, ben vestiti e curati nei minimi dettagli, sono scesi domenica scorsa in passerella nell'ampio spazio della Galleria Alplazza. Infine, una giuria d'eccezione ha votato le mascherine più belle e si sono così classificati al terzo posto il piccolo Joelle vestito da moschettiere, al secondo posto Tommaso mascherato da Mickey Mouse e infine il primo posto è andato alla piccola Giada che ha interpretato una bellissima e indomabile piratessa. Tutti i bambini partecipanti sono stati comunque omaggiati da un piccolo dono di partecipazione. Lo speciale di questa terza edizione della sfilata delle mascherine organizzata da Canale 74 in collaborazione con Toisin andrà in onda su questo canale anche in diretta Facebook sulla pagina Canale 74. Oggi alle 15 e alle 21 e in replica venerdì alle 18, sabato 2 marzo alle 15 e alle 21, domenica alle 12, alle 16 e alle 20 e lunedì e martedì giorno di carnevale alle 15 e alle 21. Grazie a tutti.